ciao ragazzi bentornati tutti sul mio canale allora siccome stavo cercando un telefonino nuovo da acquistare e però volevo spendere poco però volevo anche un telefonino di qualità di buona qualità tipo un Samsung tipo neppolo ho trovato questo sito che secondo me mi sembra veramente 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 buono quindi che ho fatto ho registrato lo schermo sul computer lo schermo del computer mentre visitavo il sito e così lo potete vedere anche voi così se volete acquistare un telefonino che costa veramente poco magari siete appassionati di droni avete il DJI vi serve anche per poterlo utilizzare su quello penso che questo sia veramente il sito che fa per voi e io ora sto ancora scegliato il mio modello e poi lo comprerò e vi farò sapere le cose nel frattempo guardatevi il sito ciao ah il sito è veramente sicuro perché si può pagare con paypal e mi raccomando pagate sempre con paypal ciao guardate il sito ciao ah mi raccomando tanti allora ragazzi come vedete sto registrando lo schermo del computer siamo sulla pagina principale di www cn direct.com in questo sito in questo sito troviamo veramente dei prodotti un sacco di prodotti tantissimi prodotti soprattutto per quanto riguarda l'elettronica anche se c'è un po di tutto come potete vedere ma noi ci interessa l'elettronica perché noi stiamo cercando un telefonino a basso costo allora in cui in prima pagina abbiamo luogo huawei p9 che viene offerta 444 euro punto 43 o al post di 6 34.9 oppure l'iphone 6 iphone 6 new classic ma a noi non ci interessa scordiamo un attimo la pagina principale per farvi vedere che cosa per chi ha i droni qui ci sono gli occhiali 3d vision molto bellini molto simpatiche lo spinner la moda di quest'anno a questo spinner anche molto carino lo guardiamo un secondo un secondo 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 lo vedo un po pericoloso per i bambini niente spinner samsung brand andiamo a vedere il samsung stiamo caricando un'altra pagina siamo sempre sul sito cn direct e abbiamo il samsung allora qui abbiamo addirittura un samsung galaxy s 7 32 gb a 335 335 335 insomma un samsung 7 a 335 gb a 335 scusate a 335 euro ce la farò a parlare mi sembra veramente veramente un prezzo buono come potete vedere è questa la differenza e ora io ve lo se riesco lo seleziono è refurbished ma che cosa significa refurbished refurbished è molto semplice nel frattempo scorro i telefonini refurbished e sono quei telefonini che sono magari stati acquistati hanno 10 15 giorni di vita e vengono rimandati indietro dal proprietario perché hanno qualche difetto le grosse case specialmente come samsung e apple al posto di sistemare subito il telefonino te ne danno uno nuovo ma che fanno nel frattempo con quel telefonino lì che gli è arrivato che sembrava avere qualche problema la maggior parte delle volte per i telefonini non ha nessun problema l'utente che non lo sa usare no comunque loro lo controllano lo rigenerano al 100 per cento e lo rimettono in vendita in sostanza è che quando acquistiamo refurbished e intanto acquistiamo un prodotto che è in garanzia che è la cosa fondamentale guardate qua il samsung galaxy note 16 gb vabbè solo 16 gb ma va bene ma 272 euro punto 27 mi sembra veramente un gran buon prezzo specialmente per chi magari vuole volare con il drone piero dagli un'occhiata mi raccomando a questo sito poi te lo linko e niente dicevo sono i refurbished sono prodotti che funzionano veramente 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 bene perché sono come nuovi perché sono stati rigenerati dalla casa rigenerassero il mio telefonino ormai non lo posso più fare lo farei e quindi niente secondo me vale assolutamente assolutamente la pena a venire su questo sito e e dargli un'occhiata gli acquisti sono sicuri proviamo a farne uno in diretta insieme 15 metto il carrello perché io la prima volta che vengo qua gli ho dato solo un'occhiata ma intanto faccio il video perché vuole sembrare che sia vero aggiungo il carrello ma il carrello non mi ce lo far mettere carta giustamente devi fare la registrazione ad esempio un telefonino che funziona veramente veramente bene ls5 della samsung voi ricordate il primo quello impermeabilizzato 173 euro ve lo portate a casa addirittura ci sono 40 pezzi disponibili è un prodotto buono qui abbiamo ls6 263 euro punto 21 ma a questo punto gli diamo un'occhiata ci sono anche gli accessori della samsung insomma c'è un pochino c'è un pochino di tutti ma andiamo direttamente al alla pagina dei cellulari che in questo caso è mobile phone e cerchiamo ad esempio un prodotto apple abbiamo l'iphone 7 a 534 euro che è veramente una cosa impressionante mentre l'iphone 6 lo abbiamo a 254 euro allora ripeto sono telefoni refurbished cioè ricondizionati ma come nuovi hanno la garanzia veramente veramente vale la pena addirittura qui hanno un iphone 4s come nuovo 94 37 questo andrebbe comprato solamente per tenere solo perché un giorno avrà sicuramente del valore insomma ragazzi io volevo far vedere questo sito che secondo me è veramente veramente buono per chi vuole acquistare un telefono magari un telefono di qualità e vuole spendere il meno possibile visto che siamo anche in un momento di crisi guardiamo velocemente altri problemi il samsung l'abbiamo dicendo su l'omtom io la prima volta che lo sento però vedo che l'omtom pro 5.5 screen 16 gb android euro 4g mi piace questo telefono mi piace questo telefono c'è anche la ram 2g quindi l'app di jago ci funziona veramente veramente bene come ci funzionano bene tutte le altre app insomma ve l'ho fatto io volevo far dare un'occhiata questi sono altri telefoni di altre marche però insomma la huawei pin 9 lo conosciamo tutti e ora guardiamo per essere sicuri come pagano per me un pagamento è sicuro quando è paypal verificato e accettano paypal perché perché quando paghiamo con paypal possiamo tranquillamente riavere i nostri soldi ci vuole magari a volte un pochino di tempo ma i nostri soldi quando compriamo con paypal si può fare tranquillamente allora quindi paypal verificato accettano paypal noi possiamo andare tranquilli dobbiamo semplicemente registrarsi e fare il nostro primo acquisto magari possiamo anche fare una prova comprando un qualcosa che costa poco ad esempio scriviamo drone non so qui se c'è un drone magari c'è alcun drone dj ai no non sembra averci droni professionali ma c'è il sì ma questo troviamo anche da tante altre parti prezzo ma ci possiamo divertire a spendere pochi soldini per poter provare e e soprattutto risparmiare ora qui io vi volevo far vedere gli smartphone ovviamente ho cambiato come al solito io sono mi sono un po divagato insomma un bel sito carino simpatico prodotti buoni affidità all'affidabilità dell'acquisto ce l'abbiamo perché compriamo tramite paypal quindi niente volete risparmiare comprando un telefonino sicuramente vi consiglio questo sito di cui io non sono sponsor quindi il mio link descrizione che lascerò sarà proprio www cn direct.com altrimenti avrei un link personale io ho deciso di comprare un nuovo telefono perché ho bisogno di un secondo telefono però ho bisogno anche di una certa qualità nel telefono quindi sicuramente ora con calma mi sceglierò il telefono spero che il video vi sia piaciuto è anche la prima volta che registro con lo schema quindi scusatemi se mi sono dilungato un po troppo ma le tecniche sono sono un po diversi dalla registrazione classica mi raccomando cn di cn direct.com e vi raccomando quando acquistate acquistate sempre con paypal perché paypal è garantito e siete tranquilli che i soldi vi rimettono vi ritornano a casa se il prodotto non corrispondesse a descrizione sicuramente qui avremo un unico problema magari bisognerà aspettare un pochino per avere il prodotto però quando si risparmiano tantissimi soldi se è questione di aspettare ci si può veramente stare ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video spero che questo vi sia piaciuto mi raccomando tanti like che ne ho bisogno aiutatemi a far crescere il mio canale fatevi sapere se questo video vi è piaciuto non vi è piaciuto ci vediamo la prossima ciao ciao